Ben ritrovati, le 12 BCC del gruppo bancario cooperativo Icrea con sede nella regione Marche e la fondazione anti-usura Monsignor Traini Ollus di San Benedetto del Tronto hanno rinnovato l'accordo di convenzione per continuare ad impegnarsi reciprocamente nel contrasto al fenomeno dell'usura. Le parole del direttore dell'area territoriale Mercato Centro-Est Icrea Banca Fausto Poggioli. Noi siamo molto contenti di rinnovare perché è specifico parliamo di rinnovo questo accordo con la fondazione per il contrasto all'usura. Noi sappiamo che il tema dell'usura è un tema che investe tanti territori in Italia e anche quello marchigiano. L'accordo è un accordo che viene in un momento particolare perché la pandemia ha lasciato sicuramente degli strasci in quanto alcune realtà che hanno perso il lavoro oppure alcune piccole aziende che sono andate in difficoltà non hanno più la possibilità di accedere al credito. E questo non per una cattiva gestione ma anche per un fattore contingente. Quindi questo accordo in questo momento è molto molto importante e fa sì che mettendo assieme i fondi messi a disposizione dal Ministero tramite l'operato della fondazione Traini e con l'aiuto delle banche che ripeto nella regione Marche sono ben 12 quelle di banche di credito cooperativo del gruppo bancario Icrea riusciranno a mettere a disposizione delle somme per situazioni molto molto particolari. Situazioni dove si interviene per pagare debiti pregressi e per consentire quindi a privati e a piccole e micro imprese di poter risollevarsi e riprendere la propria attività.